È un urlo di liberazione quello che esprigiona Marco Zambelli dopo aver messo a segno il gol della vittoria contro il Cittadella. Chi, se non il capitano bianco-azzurro, doveva essere l'uomo della riscossa, il protagonista del ritorno al successo del Brescia in campionato. Esulta Zambelli, esulta Ivo Iaconi al primo successo sulla panchina del club di Via Bazzoli. Nella sfida, da dentro o fuori, il Brescia non fallisce l'appuntamento con il successo, ritrovando Sorrisi a distanza di un mese e più dall'ultima volta. Nel 3-5-2 scelto, da Iaconi, quale modulo iniziale c'è Budela al centro della difesa con Freddi e rientranti di Cesare ai fianchi. In mediane, Registe ne rubano l'Iveira, con Grossi e Benalì a fare da Angeli Custodi. In attacco, la coppia Caracciolo-Valotti. Che il vento possa tornare a soffiare sulle vele sul cammino del Brescia, lo si capisce, dall'atteggiamento iniziale dei bianco-azzurri. In campo c'è aggressività, determinazione e quella giusta dose di cattiveria agonistica. Al sesto, è Grossi a scaldare i guantoni di Di Gennaro, provando una conclusione dalla distanza. La partita è però bloccata. Per scardinare il fortino amaranto eretto da Foscarini, il Brescia si affida alla freschezza di Valotti. È lui al ventiquattresimo ad invitare al tiro Caracciolo, con il bomber milanese a non inquadrare lo specchio della porta. E non è un caso se la più ghiotta palla-gol del primo tempo capiti sui piedi proprio dell'attaccante tascabile di Torbole Casaglia. Ben imbeccato da Benalì in verticale, Valotti prova una conclusione di prima intenzione, con palla che si billa al palo. Il bersaglio grosso è mancato di pochi centimetri. Nella ripresa ti aspetti l'accelerata decisiva del Brescia, ma invece il Cittadella a premere. Seppur volenterosa, la squadra di casa non porta pericoli effettivi dalle parti di Cragno. La svolta arriva al venticinquesimo. Azione tambureggiante, quella di Andrea Caracciolo. Liberatosi di un avversario, l'aerone scagliava un fendente potente verso la porta, difesa da Di Gennaro. La palla cozzava contro un difensore in ripiegamento, impennandosi nei pressi dell'area piccola. Sulla sfera vagante, il più lesto di tutti era il capitano Marco Zambelli, che di testa infilava l'1-0. Raggiunto il vantaggio, il Brescia si scopriva nuovamente fragile e con il braccino del tennista. Il Cittadella coglieva così una clamorosa traversa al ventinovesimo con lo scaglia, quello veneto. La formazione di Iaconi resisteva all'assalto finale, riuscendo però a portare in porto la vittoria e scacciacrisi.